Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo In questa puntata vi spiegherò praticamente come si vedono le registrazioni della telecamera ST01 Cioè una volta che abbiamo finito di registrare, come si scaricano e come si riproducono i video Innanzitutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimuovere la SD card dalla nostra telecamera Quindi togliamola, inseriamola poi dentro al computer E attraverso il software che viene dato insieme alla nostra ST01 Andiamo ad aprire i due file, non toccate assolutamente i file della vostra SD card per non compromettere i video Poi facciamo Open Load File e fate Record Zero Tag Di solito vengono lì messe tutte le registrazioni, le state vedendo in questo momento Queste sono registrazioni a 1 fps al secondo, quindi all'incirca 1 secondo Quindi sono abbastanza lente, però vi permette di avere un'immagine proprio alla grande Una volta che abbiamo visto il file e invece lo vogliamo esportare Dobbiamo premere su Record e poi Play per poi registrare il tutto Come state vedendo in questo momento, sta prendendo tutti i frame Una volta che ha finito tutto ciò, premiamo Stop E se vogliamo catturare invece un'immagine possiamo andare a catturare l'immagine attraverso il tasto Capture Adesso vi faccio vedere un esempio Quindi rimandiamo indietro la registrazione e vi faccio vedere proprio che ha catturato l'immagine Eccola qua Come vedete c'è sia il Record Tag che abbiamo appena finito di registrare E sia anche l'immagine, come vedete Ok, adesso come si vede la registrazione che abbiamo appena scaricato Innanzitutto dobbiamo richiudere il programma, quindi aspettate che mi sia bloccato il programma Ok, riapriamo il programma e facciamo l'od file Stavolta non più sulla SD card ma dove l'abbiamo salvato Di solito è sul desktop nella cartella Capture Andiamo quindi a trovare la cartella Capture che dovrebbe essere in alto Sopra la C Ok, trovata E adesso andiamo a aprire il file Record.tag Come vedete se premiamo Play le nostre registrazioni sono state scaricate con successo E così abbiamo proprio l'immagine in diretta Una volta fa tutto ciò Rimettiamo la SD card dentro la nostra videocamera E avremo di nuovo tutto normalmente funzionato Grazie a tutti